signori e signori buonasera siamo nella cucina di gaia e pappagallo lallo adesso prepariamo una ricetta speciale osservate bene e osservate ed imparate cuoca gaia dove sei bene cosa stiamo per preparare questa sera no dobbiamo preparare quelle le uova le uova di dinosauro bene allora prendiamo per prima cosa le uova prendiamo le uova due uova di dinosauro in ghi e poi e mettiamo le uova dove le mettiamo le uova a cuocere allora dai mettiamo le uova sulla pentolina abbiamo fatto un bel casino come al solito grazie brava gaia ecco fatto poi 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 accendiamo il fuoco che profumino di dinosauro in ghi è finito è finito sono pronte le uova bene e allora signori e signori devi prendere un piatto una patatina va bene arrivederci alla prossima notte ciao ciao